Cos'è sta? Cos'è va rifatto? Andarmi a dire che c'è Federico Rasponi dato lì ha già morto! E' così! E' così! Alla qua vivo c'è il pittore brillante che vuole venire la ciascia continua! C'è Federico! Federico Rasponi! E' così! E' così! Ma se l'è qua in casa in sala che vedeva in ammalata! Adesso adesso mi rompo il muso! Non mi rompo il muso! Ma il mio buonetto vuole rompere il muso? A quella cosa signor Pancalone ditevi che faccia venire in anzi! A questo tale che gli crede essere Federico Rasponi! Però venire in anzi sto morto! Resuscita! Ma perché pensi? Piano? Piano che se rompe! Piano! 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 Mettelo sotto! Ma che c'è sta morto che c'è su città po' lecce! Non voglio niente contrario! Ma adesso li vivo! Alla direi con i nostri occhi! Oh! Ed è! Oh! Oddio! Oh! Grazie a tutti.